Roma quarta puntata siamo alla fine del giro dei fori imperiali ho completato l'angolo con la torre delle milizie il monte squilino il monte oppio ho accennato al parco del monte ceglio e infine siamo giunti al palatino circo massimo dove si vede la sede della fao e l'opelisco di angsum ora mi dirigo verso un quartiere molto romano campitelli ai piedi del campidoglio ci dirigiamo vicino all'ansa del fiume tevere che ho tratteggiato un po a matita è un quartiere ricchissimo di elementi caratteristici della storia e dell'arte romana tratteggiamo i ponti lungo il tevere e la celeberrima isola tiberina il lungo tevere è stato innalzato con questi muraglioni non bellissimi a vedersi dai piemontesi su modello dei murazzi di torino per evitare le frequenti inondazioni del fiume roma era una città portuale ed era spesso soggetta a terribili inondazioni in questa isola abbiamo la chiesetta di san martolomeo è un quartiere molto pittoresco vi si trova la trattoria di soralella rialdo fabrizi vicino al ponte ecco qua è uno degli scorci più famosi di roma un'isoletta proprio piccolina con una forma caratteristica sorta di piccola parca poche abitazioni e noi accenniamo appena così a ridosso del fiume e un po' di alberi qui al fondo dell'isola accenniamo al ponte rotto un ponte rovinato di cui rimangono alcune arcate interrotte e facciamo l'altro ponte successivo all'isola ecco così l'anxa del fiume Tevere è terminata qui abbiamo piazza Gioacchino Belli quando si parla di Roma si pensa anche alle poesie alle canzoni romanesche poi disegneremo le piante del lungo fiume daremo un po' di colore e andando lungo le rive di questo fiume un po' de qua e un po' de là come dicono a Roma sulle due sponde incontriamo la sinagoga con un'alta cupola questo era il quartiere del ghetto ebraico quindi abbiamo il tempio la sinagoga che spicca nel quartiere di Campitelli un altro elemento distintivo di questo quartiere è il teatro di Marcello un teatro romano ancora abitato divenuto un condominio nel medioevo ancora oggi con una struttura tipicamente medievale perché si nota il tetto dove la gente viveva e le arcate romane riadattate in parte ad utilizzi domestici abbiamo questa forma semicircolare caratteristica un po' la stessa del Colosseo un pochino più piccolo in mezzo appunto a delle case un'area molto densamente popolata solo parzialmente archeologizzata con il tipico riuso del medioevo degli elementi romani per scopi diversi facciamo Santa Maria in Campitelli la chiesa di questo quartiere una chiesetta semplice a fronte ci sono delle rovine romane questa era un'area in cui sorgeva la grande biblioteca romana in cui oggi rimangono solo alcune colonne il cosiddetto portico d'Ottavia via del portico d'Ottavia proprio dietro alla sinagoga uno degli scorci caratteristici di Roma dove si mescolano vari elementi possiamo ancora recarci a nord del teatro di Marcello tratteggiare semplicemente i piccoli tempi templi di Portuno che spiccano qua un po' isolati o il tempio di Ercole altresì detto anche di Vesta per la sua forma circolare era stato attribuito erroneamente e dietro di questi abbiamo il portico di Santa Maria in Cosmedi una chiesa medievale con lo stile più diffuso a Roma nell'epoca medievale questo grande portico la facciata questo stile detto cosmatesco e un alto campanile uno dei più alti di Roma anche se abbiamo tracciato il circo massimo possiamo passarci sopra nel disegno questi campanili medievali romani con più bifore trifore a crescere così erano un po' i grattacieli le torri altissime del medioevo a dominare il piazza questa piazza detta della bocca della verità perché sotto il portico si trova la famosa immagine della faccia a tutto tondo con la fessura per mettere la mano che viene mozzata nel caso in cui uno dica le bugie tratteggiamo ancora l'arco di Giano e proseguiamo la nostra passeggiata tornando al campidoglio da cui eravamo partiti alla prossima puntata a